e qui sono alla zona wakeboard veramente una novità sono in compagnia di Sauer, Hawaii? È fantastico, è un luogo incredibile, è un sogno per un rider, un sogno per le persone, è uno dei dei più più piaciuti che ho mai mai stato, c'è molta sport, musica, le donne, tutto, è un sogno, per me è una delle più più cose in Europa o nel mondo, è certo di dire il meglio del mondo. E quanto riguarda la competizione? Non mi piace la competizione, mi piace più questo contesto, questo evento, tutti sono felice, tutti è divertente, è incredibile, grazie a tutti, grazie a tutti per questo grande evento, siamo molto felici di venire qui, è davvero fantastico.